buonasera buonasera a tutti eccolo il nuovo aggiornamento serale come potrebbe essere diversamente visto che vi seguo pedisseguamente voi seguite me grazie delle nuove iscrizioni come vi ho detto ieri guardate che bella copertina direte a voi arriva il gelo no eh diciamo la situazione un po' complicata ora ve la spiegherò ma prima come siete stati tantissimi a iscrivervi eh rinnovo quindi la diciamo il la proposta di iscrivervi al canale iscrivetevi perché eh con l'iscrizione che non è l'abbonamento ed è gratuita e potete disiscrivervi ogni momento aiutate il canale a crescere e posso quindi portare avanti questo progetto che altrimenti zoppicherebbe se non ci foste voi ad ad aiutarmi quindi grazie per le tante iscrizioni e vi prego non vi costa nulla se volete seguire così vi arrivano le notifiche eh l'abbonamento è facoltativo quello c'è un piccolissimo incentivo ma l'iscrizione è gratuita e quindi con quella vi arriva la notifica immediatamente appena pubblicato e potete essere aggiornati come nel caso di stasera perché vale la pena essere aggiornati perché guardate che bella copertina tutti quanti stanno parlando di caldo anticiclone e io vi annuncio il gelo in effetti no perché a ben guardare ora mi sposto non sto annunciando alcun gelo per lo meno in italia ma mi sposto così vedete meglio allora che cos'è questa carta questa carta voi direte ma quando si riferisce a oggi anzi è proprio a poco fa è l'ultimissimo aggiornamento uscito un'ora fa del modello americano quindi arriva il gelo in italia no semplicemente abbiamo più volte detto che il vortice polare è instabile è molto dinamico continua a essere molto debole adesso lo vedrete fra poco vi illustrerò anche la situazione in stratosfera che è sempre più dinamica quindi ci sono molti movimenti di masse d'aria gelide provenienti poi dall'artico dal luogo in cui si forma il freddo ovvero nelle regioni polari in particolare poi in quelle continentali ancora di più ma comunque nelle regioni polari che causa anche assenza di dell'irraggiamento solare e quindi della radiazione solare anzi scusate che va a riscaldare poi quindi il suolo c'è la notte polare si raffredda si forma questo serbatoio freddo questo serbatoio come ho detto più volte se non ci sono particolari disturbi resta abbastanza confinato con le dovute con i dovuti scambi di calore che devono esserci perché deve essere rispettato un certo equilibrio termodinarico tra equatore e poli altrimenti accelererebbero sempre di più le correnti a getto e si andrebbe verso la catastrofe no non è così ci sono i scambi ma in condizioni di un vortice poi richiuso diciamo il serbatoio freddo tende a mantenere comunque alle alte latitudini quello che è il freddo accumulato non ci sono non ci sono particolari rivoluzioni fredde alle medie latitudini mentre per quello che si vede ora assolutamente diverso l'unico aspetto qual è questa è riferita alla alla neve accumulata fra 15 giorni non ci sono particolari rivoluzioni fredde sull'italia avete visto che cosa accade abbiamo detto inizialmente c'è una nao nord atlantico scelta addirittura troppo negativa quindi un grosso lobo gelido che mosso sì da questa dinamici dinamica atmosferica che vede l'arrivo di una formazione poi la traslazione di un blocco verso l'agro e l'andia genera genera in questo momento già sta iniziando una enorme discesa fredda sull'europa e la scandinavia che nel frattempo in questi giorni si era riscaldata con un divario addirittura di 50 gradi alcuni località si raffredderà di nuove ma si raffredderà anche tutto ciò che oltre al pre grazie a un flusso nord orientale viceversa questo flusso però appunto si andrà tra virgoletta disperdere nell'atlantico perché avrà non riuscirà a puntare direttamente ad uno di causa della traslazione eccessiva del blocco verso l'agro e l'andia troppo nord ovest per intenderci ma che cosa succederà che già si parlava di mostri anticiclodici fanno ridere poi come cercano le correzioni parliamo no però arriva l'inverno c'è un mostro anticiclonico ogni deve essere per forza qualcosa di drammatico sarà niente di tutto questo sarà una via di mezzo mentre nell'europa quello sì ci sarà il freddo vero anche abbastanza potrebbe creare disagi come oggi a mosca ho appena postato su instagram che vi invito a seguire che grazie a tantissimi follower ma una bufera di nevi a mosca oggi una cosa veramente sembrava di essere in antartide ma da noi arriverà per il controbilanciare l'aria fredda che va in atlantico ci arriverà l'aria dell'atlantico è il gioco degli scacchi praticamente le pedine si muovono reciprocamente e quindi in sostanza quella che poteva essere l'irruzione fredda l'abbiamo detto ha scelto la seconda via quella che era stata già contemplata a suo tempo con un flusso atlantico il flusso atlantico è limite in particolare quando poi siamo nella fase ascendente di una saccatura arrivano correnti miti subtropicali c'è poco da fare quindi saranno a strillare anomalie termine nessuna anomalia farà più caldo della media semplicemente perché c'è un assetto barico una configurazione che vede uno scambio di calore comunque imponente che avrà però come direttrice del freddo perlomeno parlo della seconda decada e poi vedremo cosa succederà della terza che potrebbe esserci sorprese ma nell'immediato per i prossimi sette dieci giorni sarà questo è il leitmotiv questa aria fredda che va verso l'atlantico e aria calda che si spinge con piogge però con piogge abbastanza frequenti non ci sarà diciamo l'anticiclone perlomeno non subito ci saranno frequenti passaggi perturbati atlantici intrammezzati da pausi intercicloniche vedete qui porta anche neve al nord ovest è solo una previsione però però l'interazione vedete tra atlantico sì tra aria fredda che viene da nord e aria atlantica sappiamo che al nord produce sempre effetti molto positivi è chiaro che se passa troppo in alto potrebbe non dare nulla ma basterà un minimo refro di aria fredda qua al nord che stante poi l'umidità che arriva dall'atlantico e il nucleo gelido che c'è oltre alpe potrebbe generare anche nevicate a quote basse al nord ma questa è un'ipotesi nel frattempo adesso vi faccio vedere le immagini attuali nel frattempo c'è stato un'ondata di maltempo notevole su sicilia calabria ionica in particolare sicilia in provincia di catania ai piedi dell'etna 200 millimetri segnalano a giarre ai piedi dell'etna 200 millimetri ne erano previsti molto meno a questi peggioramenti nel sud italia che io ho avuto modo anche di affrontare di di studiare anche per nell'ambito della ricerca universitaria sono molto pericoloso attenzione basta niente basta una piccola perturbazione una depressione che si diciamo invortica nello ionio per generare precipitazione in questo periodo ma non solo diciamo da da ottobre fino a dicembre anche ma diciamo in genere la stagione la stagione invernale perché i mari al sud del golfo della sirca dove va a pescare l'acqua sono molto caldi e con quantitativi che in passato hanno superato anche 500 millimetri nelle 24 ore quindi parliamo di cose molto pesanti e andiamo avanti però guardiamocelo quello che sta succedendo eccola qua l'imagine satellitare guardate questo è ancora il maltempo che c'è al sud che sta migliorando però si sta è in fase di guarigione ma nel frattempo guardate ecco che inizia ad affluire aria molto fredda andrà più impulsi mentre qui c'è un grosso anticiclone e inizialmente sarà meridiana come doveva essere ma non ci prende poi c'è veramente ci beffa perché inizialmente quando poi si sposta verso ose quindi potrebbe prendere anche noi però si sposta troppo cioè sembra fatta apposta per saltarci in pratica e quindi prenderà la via con moto retrogrado dell'atlantico passando appunto all'Europa centrale l'Inghilterra anche dove è la Gran Bretagna Regno Unito insomma dove ci sarà Irlanda dove ci saranno anche nevicate in pianura e da noi arriverà un flusso atlantico e ve lo faccio vedere queste sono le precipitazioni che in atto guardiamoci questa carta guardate ecco c'è questo blocco guardate scende aria fredda vedete qua al lato guardate sempre più impulsi sempre più occidentali arrivano sembra che ci travolgano ma come vi ho fatto vedere se ne va tutto ovest eccolo guardate guardate il lobo come trasla completamente verso ovi si corica letteralmente e quindi da noi l'aria fredda va in atlantica e da noi arrivano perturbazioni però ecco il flusso atlantico lo vedete flusso atlantico flusso atlantico poi qui indicano a rimonta proprio zonale ah no ancora flusso atlantico vedere affondi con e poi in questo caso c'è un finale con un anticiclone ma abbiamo visto ieri come sia lascia il tempo che trova questo finale perché comunque le stesse emissioni davano in un momento l'anticiclone nell'altro il flusso gelido e c'erano delle testate che cambiavano continuamente la previsione per l'inverno nel frattempo vi faccio vedere questo è la stratosfera la previsione dell'inverno sulla base del run dell'emissione che usciva sul momento quindi o inverno finito o il flusso gelido è fantastico nemmeno io ho mai usato tanto io cerco di fare tendenze e questa è la tendenza in stratosfera fate attenzione a questo vediamo se mando l'animazione si eccola guardate l'atmosfera quanto è disturbata quello rosso sono i warming il polo e qui sopra guardate il pallino vedete come i warming raggiungono a poco a poco alla volta il polo dopodiché qui il vortice polare che ora in display è sempre più dissassato sempre più decentrato poi verso addirittura e poi con tendenza a bilobare guardate questo warming previsto intorno al 20 proprio sul polo guardate come si riduce il vortice polare tende anche eccolo qua qui c'è la divisione avete visto in questo punto qui c'è anche una bilobazione insomma estremamente disturbato allora la situazione non è proprio come si vuole far credere insomma inverno finito per carità gennaio seconda decade probabilmente anche parte della terza ormai non difficilmente saranno potranno vedere la seconda decade sicuramente no un'ondata di gelo abbiamo detto che ci sfiora tutto ma ormai pare abbastanza definito il fatto che non arriverà il freddo da noi la terza decade ancora non viene evidenziato nulla quindi dobbiamo prendere il buono quello che dicono modelli ma ancora tutto in gioco perché comunque la stratosfera avete visto che quale sconquasso a quale sconquasso sia soggetta ma poi se andiamo a vedere anche le alcune altri indici allora questa qui è la madden julian oscillation non so se vi ho spiegato qualche volta ma potete sappiate che quando si muove in questa direzione vedete in questo quadrante qua qui m metto una m la faccio muovere questa zona qui dove sta andando dove si vede generalmente è favorevole comunque la formazione di blocchi atlantici quindi rafforza questa volta quella tendenza alla formazione del blocco che non c'è stata poi o meglio ha traslato troppo ovest quindi al rafforzamento della radice del blocco e quindi potrebbe essere un di buon auspicio questa è prevista da qui fino al 25 gennaio sempre più verso queste fasi è una è un indice un parametro che correlato alla convenzione tropicale che a seconda di dove si collega questa convenzione come vi dicevo può variare quella che la modulazione del getto del getto polare e di conseguenza quando statisticamente si è visto quando arriva in questa zona dove sembra andare con elevata magnitudo può favorire la formazione di questi blocchi sia atlantic rigidi atlantici che scandinavi quindi è molto interessante quando sta succedendo e qui vedete la NAM nord atlantic mode nord annular mode stavo pensando alla NAO nord annular mode cioè la forza del vortice polare a tutte le quote vedete questa è la tratteggiato è la momento attuale e poi tutto rosso che indica più debole della media le anomalie che tendono a far sì che il vortice polare sia più debole della media e si sfiora quasi meno 3 meno 3 che indica a 10 octopascallo vedete come vi dicevo vedere ieri insomma siamo quasi in una fase tipo escold evento stratosferico estremo in parole povere significa che potrebbe avere un vortice polare disturbato fino alla fine dell'inverno e insomma dai ci sono varie cose che ci dicono e qui ho fatto vedere questa distribuzione questa è la carta di prima questa è la neve al suolo prevista dal modello americano per i prossimi 15 giorni accumulata al suolo come vedete l'europa avrà la sua bella razione e insomma questo è quanto non vi dico non vi sto dicendo quindi che arrivi il gel nel mediterraneo non ci sarà adesso già però in terza decade probabilmente potranno benissimo cambiare i modelli perché sono molti aspetti che lasciano presupporre ciò e febbraio è apertissimo anzi in teoria ma poi vediamo che purtroppo il caos regna inteso come sistema caotico basta poco che varia tutto quindi non possiamo prevederlo avete visto come è andata a finire questa ma in teoria febbraio è apertissimo anzi con vortice in queste condizioni può arrivare di tutto quindi dovendo fare la previsione in realtà sembra proprio che ci possa essere una linea favorevole che vede l'installarsi di depressioni sull'europa e mediterraneo e di alte pressioni e blocchi tra atlantico e scandinavia questa è l'idea di massima e la tendenza spero che venga rispettata attendiamo che i modelli confermino ciò nel frattempo vi ho detto quello dovevo dirvi grazie veramente del grande seguito come vedete io cerco di darvi queste tendenze non andate voglio vedere chi dice che io prevedo al gelo nessun gelo che ho detto ora ma ci sono delle ottime premesse per il dopo un abbraccio a tutti ciao ciao